agenti immobiliari buongiorno allora diciamoci la verità noi abbiamo sempre un problema ogni volta che ci dobbiamo rapportare con un cliente con un cliente nuovo un cliente che magari non abbiamo mai né visto né conosciuto oppure un cliente che ci proviene da una telefonata a freddo abbiamo sempre questo problema che sta nel cercare di stabilire subito un feeling un rapport una situazione di empatia e magari perché no anche di simpatia che ci metta in condizione di essere poi più credibili più affidabili che metta in condizione il cliente di poterci ascoltare con un pizzico di serenità e con tanta voglia di capire quello che gli vogliamo dire quale può essere la soluzione per lui molte volte abbiamo a che fare con clienti che non abbiamo mai né visto né conosciuto con i quali ci dobbiamo presentare in pochissimo tempo stabilire quello che dicevo prima quindi un rapporto un qualcosa che possa aprire il cuore del nostro cliente allora abbiamo questo dannato problema di voler piacere al cliente in poche parole se sentiamo di piacere al cliente istintivamente ci sentiamo più sicuri più tranquilli sappiamo che la nostra negoziazione sta prendendo una strada giusta e quindi anche quando saremo là a descrivere il nostro servizio le nostre possibilità di vendita al nostro piano marketing dopo che avremo fatto tutte quelle fasi approccio simpatizzamento inquadramento del problema con alla base un rapporto di empatia e di simpatia sicuramente sarà tutto più facile giusto il problema quindi è piacere piacere istintivamente al cliente ora per fare questa cosa ci sono diversi metodi diverse situazioni da poter sfruttare per arrivare proprio a questo che per noi è un obiettivo importante io ve ne vorrei consigliare uno uno che però vi sarà sempre di grande aiuto nel riuscire in qualche modo a piacere al cliente sapete come si può fare fatevi piacere il cliente esattamente proprio questo fatevi piacere il cliente robert cialdini lo spiega molto facilmente in realtà se proprio così vi fate piacere il cliente si stabilirà subito un principio di reciprocità come lui piacerà a voi voi piacerete a lui ecco quindi la domanda può essere come posso farmi piacere una persona che istintivamente non mi piace o che magari mi ha pseudo trattato male mi ha dato delle buche non è stato affidabile però sta sempre là in qualche modo vuole vedere quella casa o vuole parlare con me della vendita della della sua casa beh c'è un un motivo molto semplice per cui lui ci dovrebbe ci deve piacere perché rappresenta per noi un cliente una fonte di guadagno una fonte di lavoro un fatturato insomma che in qualche modo ovviamente a noi ci tornerà molto comodo in fondo quel cliente ha un problema da risolvere o come si dice nella programmazione neurolinguistica una questione da risolvere perché perché non esistono problemi ma sta di fatto che lui ha quindi qualcosa che deve risolvere necessariamente può essere l'acquisto di una casa può essere la vendita di una casa ecco perché noi ci dobbiamo mettere in condizione di farci piacere il cliente perché noi siamo la soluzione giusta per lui e allora focalizzatevi su quello che di buono lui vi può offrire su quello che di buono lui ha al di là della sua modalità comunicativa che magari per voi non sarà il massimo ma focalizzate la vostra attenzione concentratevi sul fatto che per voi lui può essere una fonte di fatturato o può essere anche un referral magari non comprerà da voi ma parlerà bene di voi soprattutto perché noi agenti immobiliari siamo un po visti molte volte già al primo appuntamento con un pizzico di diffidenza o molte volte come il fumo negli occhi appunto per questo lui non si aspetterà da noi che possiamo in qualche modo dimostrargli il fatto che lui ci piace se voi riuscirete a dimostrarglielo automaticamente voi piacerete a lui e vedrete che il feeling si crea subito quel rapporto che vi aiuterà poi andare avanti nella vostra trattativa sarà fondamentalmente basato su un accordo semplice ma estremamente efficace io ti piaccio e tu mi piace e allora siamo come si dice già a metà dell'opera ok ragazzi buona formazione a tutti e ricordatevi sempre una cosa la formazione aumenta il fatturato ciao